Ave, ave, ave Maria Ancora una volta dopo oltre 300 anni la città di Modica è tornata a invocare e rivolgersi alla Madonna delle Grazie Lo ha fatto sabato scorso alle 19 quando in maniera corale ma solamente in diretta streaming e su questa emittente è tornata a pregare la tavola in Ardesia con raffigurata la Madonna che allatta il bambino Anche sabato i moricani hanno così invocato il suo aiuto affinché protegga la città dalla pandemia così come fece nel 1626 e poi nel 1709 quando miracolosamente furono fermate prima la peste e poi il tifo alla recita del Santo Rosario anche se da casa migliaia di utenti in preghiera tramite la pagina Facebook di Canale 74 hanno seguito l'evento in diretta lasciando anche centinaia di commenti di speranze e di fede all'interno della Basilica Santuario della Madonna delle Grazie solo due persone Don Stefano Modica e il sindaco di Modica Ignazio Abate Ti affidiamo tutti gli ammalati, gli anziani, i bambini e le loro famiglie proteggi i medici e tutti gli operatori sanitari che con abnegazione sono in prima linea per aiutare le tante persone colpite dal male Dona luce e sapienza a quanti cercano nuova via per salvaguardare la nostra salute Ti chiediamo Padre Buono di accogliere tra le braccia della Tua misericordia Tutte le vittime del grave male O Maria, madre, maestra e da sempre regina della nostra città di Modica A te, al tuo cuore, affidiamo le nostre ansie, i timori e la paura di questi giorni Fuori dalle mura migliaia di cittadini in quel momento a casa davanti alla televisione o lo schermo del proprio computer a pregare Una preghiera social come ormai i tempi nuovi impongono Ma non per questo, meno sentita e meno partecipata Quello che si è visto sabato è stato infatti l'esatto contrario Un record di persone online che tra preghiere e commenti di fede e speranza si sono dati virtualmente la mano così come non possono fare ormai da giorni La Madonna, quindi un primo grande miracolo, l'ho appena fatto Si spera nella liberazione dalla pandemia così come avvenne circa 310 anni fa quando la sua immagine uscì dalla chiesa così come è tornata a fare sabato scorso quando i modicani si sono affidati nuovamente alla Vergine Santissima per essere liberati dalla pandemia che affligge tutti O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza Noi, popolo modicano, ci affidiamo a te salute dei malati che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù mantenendo ferma la tua fede Tu, salvezza del popolo italiano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché come a Cana di Galilea possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova E per l'intercessione della Beata Vergine Maria scenda sulla nostra città di Modica e su tutta l'Italia la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amen Ora che vieni giubilo, oggi Dio Onnipotente Grazie a tutti